Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend a Scoprire. Venerdì 24 di marzo a Castrocello, alle 16.30 presso il Monacato di Villa Euchelia, si terrà il Convegno Salubrità e Ambiente, politica ambientale e prospettive per il territorio di Castrocello. A Frosinone, sempre venerdì 24, dalle 20.15, si terrà l'iniziativa Passi Carbonari, l'itinerario della Carboneria Frosinate. Un percorso alla riscoperta dei luoghi simbolo della Carboneria Frosinate, con degustazione finale a base di alimenti propri dei cerimoniali carbonari. Sabato 25, sempre a Frosinone, dalle 9.00, presso il Palazzo della Provincia, l'Associazione Piero Taglienti organizza il Convegno Giuridico Diritto del Lavoro e Diritto al Lavoro. Ad Alatri, alle 17.30, presso la Biblioteca Comunale, sesto appuntamento della quarta edizione degli incontri con il compositore Antonio D'Antò, dal titolo Stasera parliamo di musica, a modo mio, in programma alcuni aspetti dell'impressionismo. Ad Isola dell'Iri, sabato 25, e domenica 26, in piazza 20 Settembre, appuntamento con la Sagra dell'Aspalago Selbatico Ciociaro. A Veroli, Cori e Priverno, il 25 e 26 di marzo, appuntamento con le giornate fai di primavera, un weekend alla scoperta di musei, monumenti e luoghi solitamente non aperti al pubblico. Domenica 26 di marzo, a Cassino, dalle 9, in piazza De Gasperi, si tiene il raduno delle Fiat 500 con sfilata per le vie del centro. Post a Fibreno, invece, si tiene l'evento Chiare, Fresche e Dolci Acque, una passeggiata alla scoperta delle sorgenti del lago, organizzata dalla riserva naturale in occasione della giornata mondiale dell'acqua, appuntamento con i guardia parco, alle 9.30 in piazza Carpello. A Collepardo, domenica, presso la Certosa di Trisulti, visite guidate alla Certosa, a quella del centroguide Cicerone. Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 0776 728035